Prima di usare Cobweb Effet, l'effetto ragnatela, al fine di rimuoverlo poi facilmente, è consigliabile spruzzare antispot. Chi non ha mai visto almeno una volta un film dell'orrore, dove la vecchia cantina del castello assume anche a causa delle ragnatele un aspetto tenebroso e drammatico, Cobweb Effet riproduce proprio quelle ragnatele, ingrigite dal tempo. Spruzzando Cobweb Effet su qualsiasi superficie, un angolo di muro, un gruppo di bottiglie, dei libri, eccetera, si formeranno delle splendide ragnatele, del tutto simili a quelle vere. Cobweb Effet è un effetto indispensabile per gli studi fotografici, televisivi e cinematografici.